G20 di Nuova Delhi e i blocchi di partenza per i leader mondiali, tanti gli argomenti sul tavolo, clima, energia, sicurezza alimentare, ma anche empowerment femminile, salute, intelligenza artificiale e digitalizzazione e soprattutto il conflitto in Ucraina e la questione migratoria. Per la premier italiana Giorgia Meloni è arrivata questa mattina nella capitale indiana, previsto un bilaterale con il premier indiano Modi e uno con il primo ministro cinese Qiang. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio di saluto al tempo delle donne ha definito i casi di violenza e di femminicidi un'intollerabile barbarie sociale che richiede un'azione più consapevole di severa prevenzione concreta e costante. Non c'è libertà oggi, si legge nel messaggio del capo dello Stato, quando una persona è vittima di molesti e violenze fisiche o morali. Angelo Reina aveva chiamato al telefono la sua ex Marisa Leo dicendole vieni a prendere la bambina in azienda da me intorno alle 5 e mezza, una trappola, ma la vittima non l'aveva capito e così a quell'appuntamento è arrivata puntuale senza sapere che sarebbe andata a morire. Quando la donna è arrivata nell'azienda la bambina non c'era, ad aspettarla solo il suo assassino con una carabina calibro 22. Intanto dopo la morte di Marisa un investigatore privato si è presentato alla questura di Trapani e ha rivelato che qualche tempo fa l'imprenditore assassino gli aveva chiesto di pedinare la giovane per scoprire una sua eventuale relazione sentimentale. Tenta uno scippo in una strada di Roma e viene aggredito dai passanti che lo prendono a calci e pugni ripetutamente e a lungo. Vittima del linciaggio è stato un cittadino indiano di 26 anni che è stato poi arrestato dai carabinieri per rapina. L'episodio è stato ripreso da una residente del luogo nel quartiere Quarticciolo e il video è diventato virale sui social come caso di giustizia. Fai da te. Convalidato l'arresto e il divieto di dimora a Roma per il giovane, mentre vista la violenza delle immagini del pestaggio i carabinieri hanno avviato accertamenti anche sui cittadini che si sono accaniti su di lui e lo hanno ripetutamente aggredito a calci e pugni. Shabbar Abbas non sa da chi è stata uccisa la figlia e vuole saperlo, sebbene sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso omicidio, un uomo al quale hanno ammazzato la figlia e vuole giustizia. Ad affermarlo nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Reggio Emilia, dove è in corso l'udienza del processo che vede imputato Shabbar per l'omicidio della figlia Saman e l'avvocato Simone Servillo, difensore del padre della diciottenne che la scorsa settimana era stato estradato dal Pakistan. 26 tra medici e infermieri sono stati denunciati da Inasta all'esito di verifiche sulla gestione di quasi 4.000 liste d'attesa e agende di prenotazioni per prestazioni ambulatoriali per visite mediche, specialistiche ed esami diagnostici relative al Servizio Sanitario Nazionale. Sono ritenuti responsabili di reati di falsità ideologica e immateriale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio. In 195 casi le agende di prenotazione erano state sospese o interrotte anche con procedure non consentite. Tra loro nove medici che avevano favorito conoscenti e propri pazienti privati stravolgendo le liste d'attesa.